Bene, bene. Bene, bene. E anche questo signore... Aspetta che allora tolgo lo zaino. No, ah, con gli occhiali. No, scusa. No, va bene. Non li avevo gli occhiali. Va bene, va bene. Eh sì. Vai. Magistrato tecnologico col cellulare. Sì. Sì. Cheers. Ma no, l'impressione. Conoscerla. Questa signora io la conosco. Ciao. Il marito non c'è. Ok. È solo vendere libri il suo mondo. Accidenti. Poi lui muore dentro i vestiti così. Sì. Non ce la può fare. Quindi questa sera... No, no, niente. Questa sera sei libera. Puoi fare quello che vuoi. Grazie. Bene. Bene. È Francesco. Francesco veramente... Ciao belli. Ciao belli. Buongiorno carissimo. Buongiorno carissimo. Oh buongiorno carissimo. Silenzio. Grazie. Grazie. Anche noi. Anche noi. Eh, noi. Eh, ehi, padre. Benevici tutti. Ma questi sono tutti... Con la corda. Con la corda di 3 metri. Io devi sempre provare, non sapevamo più di le sterne noi. È un po' caldo. No, ho un pochino. Faccio a casa faccia. Che sta aiutando dentro la sua? Grazie. 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 I pantaloni ci sono, i siedi, devi mettere in una posizione di relax. Come la lucetta, devi stare fermo, non consumi. Beh, ma oggi non fa proprio caldo caldo, dai. Non è che fa caldo, è acqua. Sì, no, beh, ma è sopportabile. Era peggio ieri sera. Eh sì, è sopportabile, dai. Quindi va bene. Poi, sono state i nostri spettatori, i nostri spettatori. Grazie, prezzi. Inizio. Oh, وتkg Ahh, non credo Woof. Ora, qualcuno va servire. 여러� scout ciao, come si300 entusia. Grazie a tutti i 12 anni di amgee. Grazie a tutti. Grazie a tutti.